Buonasera a voi che siete arrivati anche questa sera, nonostante l'incrocio tra fön e vento dell'Alaska, c'è un incrocio strano, quindi a seconda dei momenti c'è caldo o freddo. E forse anche la poesia di Shelley è un incrocio di cui i nostri professori ci parleranno e che ci faranno gustare a fondo. Voi vi domanderete ma che ci fa Shelley qui presso il Duomo di Milano? Forse le distanze sono tante tra questo soggetto che vogliamo studiare questa sera e il Duomo di Milano. No, vi escludo una ragione, non c'entra nulla Meghan Merkle che è duchessa di Sasses, mi sfugge anche il nome. C'è invece una prima ragione che il professor Rognoni ha voluto farmi conoscere e che io sfrutto subito. Perché Shelley in una sua lettera dall'Italia, parlando della sua ricerca di casa in Milano mentre era a Como, dice che è comodista soltanto sei leghe da Milano e dal Duomo se ne possono scorgere le montagne. E continua, questo Duomo è un'opera d'arte veramente sorprendente. E' in marmo bianco con pinnacoli di altezza vertiginosa, gesellati molto finemente carichi di sculture. L'effetto del Duomo che trafigge l'azzurro compatto con quei gruppi di guglie abbaglianti che si stagliano nella serena profondità di questo cielo italiano o al chiaro di luna e allora sembra che le stelle si raccolgano tra quelle forme scolpite, supera tutto ciò che immaginavo l'architettura potesse produrre. L'interno, anche se veramente sublime, ha un aspetto più terreno, le sue vetrate colorate, le colonne massicce di granito sovraccariche di figure antiche e le lampade d'argento che ardono in continuazione sotto il baldacchino di panno nero a fianco dell'altare d'ottone e della cupola di marmo scolpita a rilievo gli danno l'apparenza di un fastoso sepolcro. Fra queste navate, dietro l'altare, dove la luce del giorno si fa debole e gialla, sotto le finestre istoriate, c'è un angolino appartato che io ho scelto per leggervi Dante. E allora questa descrizione mi ha già familiarizzato con il personaggio che stasera il professor Rognoni e il professor Saglia ci faranno gustare. Vi devo dire che c'è una terza ragione, la più vera per me, e cioè che bisogna leggere tanta poesia per saper gustare la poesia biblica e saper tradurre la poesia biblica, intraducibile normalmente, ma soprattutto intraducibile per chi non ha senso poetico. E purtroppo la nostra Bibbia è maltrattata così da gente che sa poco di poesia. Questa è la vera ragione per cui approfondiamo i profeti. Buona serata. Grazie Monsignore, noi arriveremo alla poesia biblica attraverso Shelley questa sera che le vie della provvidenza sono infinite, quindi questa sera abbiamo scelto Shelley. Ma aggiungo soltanto una cosa e penso che me lo permetterete a quanto ha detto Monsignor Borgonovo, è che questi due volumi delle opere di Shelley, le opere poetiche, le prose e le lettere, poi che fanno parte del secondo volume, usciti a poca distanza l'uno dall'altro, fanno parte della collana dei Meridiani di Mondadori, che è una delle collane di classici che ci sono in Italia, diciamo la più ricca forse per i titoli. Diciamo che sino ad oggi i Meridiani contano oltre 400 volumi, con più di 200 autori, 21 sono le antologie e 20 sono i classici dello spirito ideati nel 2000 e guidati allora da Pietro citati. Si ricordano ad esempio il De Garda di Bingen, il volume dedicato a Maria, il volume sulla guerra giudaica e altri che poi possiamo anche, uno fu dedicato anche al Cardinal Martini e altri volumi dei Meridiani dello Spirito. Ma questa collana dei Meridiani compie 50 anni e compie 50 anni e questa sera, mentre presentiamo Shelly, volevamo anche farle degli auguri, anche perché qua in prima fila abbiamo Renata Colorni che la regge da parecchio tempo. Renata Colorni è stata colei che ha aperto, molti la ricorderanno come germanista, però io la conosco da molto tempo anche come direttrice editoriale, ha aperto un po' la collana ai classici del Novecento e quindi nei Meridiani noi sotto la direzione di Renata Colorni abbiamo trovato le opere di Bertolucci, le opere di Caproni, le opere di Luzzi, le opere di Zanzotto, di Penna, dei nostri poeti, senza contare che i Meridiani nacquero nel 69 quando Mondadori decise praticamente di avere una collana di classici e allora l'idea, il progetto almeno fu di Vittorio Sereni che trovò l'approvazione di Arnoldo Mondadori e la collaborazione di Gian Siro Ferrata. Poi ricordo Luciano De Maria che fu il continuatore, poi ricordo che i Meridiani in questi 50 anni hanno dato anche testi di grande riferimento per dire dalle opere di Pasolini ai poeti della scuola siciliana, ma non soltanto, poi ci sono, penso che la migliore traduzione di Hölderlin sia nei Meridiani, non voglio entrare, poi rischierei di prendere un'insufficienza perché siete due professori e non vorrei sorreggere questa sera l'esame di storia dell'editoria. Ecco, però 50 anni di una collana in Italia sono veramente tanti e io direi proprio grazie a Renata Coloni, grazie a coloro che l'hanno aiutata, grazie a tutto quello che è avvenuto. Ci sono anche delle antologie preziose sul giornalismo, ci vuole un bel coraggio a fare un'antologia sul giornalismo perché è una materia talmente vaga, talmente difficile da riassumere, ma comunque ce l'ha fatta, ma così come ci sono libri di viaggi, così come ci sono raccolte di testi di viaggi, così come ci sono aforismi, i Meridiani, insomma, sono da scoprire, da vedere e questa sera abbiamo qua due scelli. So che è uscito anche contemporaneamente in questi giorni, le librerie lo stanno ricevendo, Kitz, che è contemporaneo, e quindi diciamo però che stasera noi ci incontreremo su Scelli, che è stato curato qui da professor Francesco Rognoni. Scelli, non Kitz, no, no, ma ho detto. Io ricordo che Francesco Rognoni, professore, insegna letteratura inglese, ma anche americana, la cattolica di Milano, ha insegnato a Udine e ha insegnato negli Stati Uniti e verrà affiancato da un anglista puro, invece insegna solo letteratura inglese, che è il professor Diego Saglia dell'Università di Parma. Io li ringrazio per essere venuti e li ringrazio anche perché dobbiamo adesso incamminarci. Allora chiedo a lei, professor Saglia, perché dobbiamo dare una prima inquadratura. Non è un argomento facile. Sappiamo come erano difficili questi personaggi. Senta, il romanticismo inglese in poesia, gli diamo una piccola inquadratura. Ci possiamo un po' orientare con questi signori? Perché fu una grande stagione quella, una stagione quasi miracolosa, di cui noi conosciamo qualche nome e forse lei adesso ci può guidare un po' all'interno. Allora, professore, accenda pure il microfono. Volentieri. Grazie. Ringrazio dell'invito. È sempre un'occasione speciale poter parlare di queste figure di cui appunto ci si occupa con il collega Rognoni. Va bene, accolgo questo invito e questa sfida che mi lancia il nostro Armando Torno perché è una cosa abbastanza complessa. Il periodo del romanticismo, dell'età romantica nella letteratura britannica ha una peculiarità. È un periodo breve. inizia verso il 1780, si protrae fino al 1830, è forse il più breve dei periodi in cui suddividiamo così per convenzione la letteratura inglese, ma ha una ricchezza stupefacente, straordinaria, soprattutto a livello poetico. E infatti mi concentrerò soprattutto su questo. Era un periodo in cui la cultura inglese diventa poetry mad, cioè tutti pazzi per la poesia. Conosciamo grandissime figure, ma vi assicuro che gli studiosi che hanno passato al setaccio tutto ciò che veniva pubblicato sulle riviste, anche le pubblicazioni minori, tantissimi, uomini, donne, di tutte le estrazioni sociali, pubblicavano poesia. Faccio anche un pochino, magari, così, di ricordi di liceo o di università. Tradizionalmente la poesia romantica nella tradizione inglese la dividiamo in due generazioni, no? La prima generazione, quella che vive in prima persona la rivoluzione francese, e poi la seconda, quella più giovane, che ne vive gli effetti che non ci sono stati con nostalgia. Nella prima abbiamo i grandi poeti dei laghi, quindi Wordsworth e Coleridge e Southie, di cui ci si dimentica, e la terza, invece, Byron, Shelley e Keats. Cosa succede? Che questi sono tutti uomini. Gli studi più recenti hanno, invece, a partire dagli anni Ottanta, riscoperto la presenza delle donne, di tantissime donne che sono state rieditate, tradotte anche in italiano, per cui si è venuta addirittura ad arricchire ancora di più il parterre di figure che hanno accresciuto la ricchezza della produzione poetica di quest'epoca. Tutte figure in dialogo fra loro. Sappiamo che gli uomini si conoscevano, collaboravano, si diventavano amici, poi dopo queste amicizie, questi sodalizi, si interrompevano, lo stesso con le donne. Le donne leggevano gli uomini, gli uomini le donne, si recensivano a vicenda. In questo periodo abbiamo, ovviamente, tutta una serie di grosse innovazioni, a partire dall'innovazione dei generi. I generi tradizionali della poesia vengono continuati e reinventati, alcuni generi dimenticati vengono ripresi, sto pensando al sonetto, si reinventa l'ode, ad esempio, nuovi generi vengono creati come ad esempio quello del racconto in versi, la matrical tale. Poi un altro elemento di enorme innovazione è il fatto che le emozioni e le passioni vengono messe in primo piano, non che la letteratura e la poesia precedente non li considerassero, ma ora l'essenza stessa della poesia è legata alla passione. Due esempi molto diversi fra di loro, Wordsworth dice che la poesia nasce da una emozione ricordata nella tranquillità, l'emotion recollected in tranquillity, Byron, molto più dirompente nell'espressione delle sue idee, dice che la poesia è la lava dell'immaginazione. Siamo più o meno nello stesso ambito, ma con due modalità di espressione molto diverse. L'altro elemento che mi sento di ricordare, poi il fatto come sempre a livello di innovazione con il romanticismo in poesia il senso del non finito, dell'incompleto, del frammento viene ad avere un'enorme dignità poetica, anzi, addirittura il non finito, l'incompleto diventa una modalità per scrivere l'indicibile, per riuscire a catturare ciò che non è esprimibile, per cui la poesia si interrompe. Pensiamo, non so, al Don Giovanni di Byron, incompleto, pensiamo a Christabel di Coleridge, lo stesso Kubla Khan, e così via. C'è infine un'ultima cosa che dico, perché poi si ricollegherà anche a ciò che ci dirà Francesco Rognoni in conclusione, ovvero il romanticismo in questa fase della cultura inglese ha messo in piedi un'operazione di grandissima importanza, cioè ha dichiarato senza mezzi termini il primato della poesia, cioè un valore assoluto dell'espressione poetica, come momento in cui i significati più veri, più profondi, più reali, si sedimentano e vengono trasmessi, cosa che non si può certo dire, ad esempio, della tradizione settecentesca, si riavvicina di più magari a certe affermazioni della tradizione rinascimentale. Questa è una celebrazione del potere della poesia nuovissima che i romantici inglesi trasmettono poi ai vittoriani, alle avanguardie moderniste, che sebbene le avanguardie moderniste poi avessero sconfessato la stagione romantica, in realtà senza questa apertura degli schemi operata dal romanticismo, non sarebbero veramente potuti esistere. Quindi apre gli schemi, professore, è così. Ecco, però, io passo al curatore, professor Rognoni. Lei è il curatore, anche, non soltanto il traduttore, è anche l'editore, perché, diciamo così, ha tradotto ed editato, poi magari ci spiegherà. io però le vorrei dire una cosa molto semplice, Shelley è il poeta, romantico, abbiamo sentito, che non era molto favorevole alle traduzioni, cioè proprio era qualcosa che gli stava così, un po' antipatico. mi scusi se... No, 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 è giusta questa cosa, è divertente, Shelley, chiaramente una di quelle persone estremamente portata per le lingue, ed era abbastanza poliglotta, in un'epoca nella quale a partire dal Settecento si fanno tante traduzioni, il poeta più grande del periodo Goethe è un poeta che teorizza la possibilità di tradurre la poesia. Shelley, invece, dice veramente peste corna della traduzione della poesia, e c'è una frase nella difesa della poesia del saggio con cui poi cercheremo di concludere questa chiacchierata, in cui lui parla della vanità della traduzione e dice cercare di trasferire da una lingua in un'altra le creazioni di un poeta non sarebbe meno insensato di gettare una viola in un crogiuolo per scoprire il principio formale del suo colore e del suo profumo. La pianta deve germogliare di nuovo dal proprio seme o non darà frutti. E questo è il fardello della maledizione di Babele. Ecco, quindi, in un certo senso, Shelley, in un certo senso, sembra proprio escludere che si possa tradurre la poesia. È vero. E tuttavia, Shelley è anche il poeta romantico che probabilmente ha prodotto le traduzioni più belle. È vero? Shelley ha tradotto Dante, ha tradotto Goethe, ha tradotto Calderon, ha tradotto gli ignomerici. Ed è una contraddizione che non è mai risolta nella attività di Shelley così come non è mai risolta, io credo, nella nostra cultura. Sicuramente non è risolta dentro di me che ho tradotto Shelley per così tanto tempo quando ero molto più giovane perché questa è una edizione molto diversa, direi, un libro completamente diverso di un'edizione che io ho pubblicato nel 1995. Quindi, in un certo senso, non solo sono un traduttore ma sono un ritraduttore. Sono come una persona che per due volte sbatte contro lo stesso muro. È vero? Perché sono, anch'io, molto consapevole dell'intrinseca frustrazione dell'impresa di tradurre la poesia e nello stesso tempo, però, è un qualcosa di profondamente necessario, capite? lo stesso Shelley sempre nella difesa della poesia parla sia di poesie singole sia soprattutto del grande poema che l'umanità è venuta a scrivere nel corso dei secoli e dice proprio che quanto più poveri saremmo se non ci fossero le traduzioni dei poeti, se non ci fossero le traduzioni di Omero, se non ci fossero le traduzioni dei classici. Quindi, in un certo senso la traduzione per Shelley è qualcosa di impossibile da un lato e dall'altro lato di cui è impossibile fare a meno. E questa direi è un'impossibilità di carattere culturale. E poi c'è anche una necessità di carattere culturale. E poi c'è una necessità naturalmente di carattere, direi, psicologico, emotivo e di ferro del mestiere. Noi tutti sappiamo che gli scrittori incontrano periodi in cui non riescono a scrivere, insomma. E la traduzione tradizionalmente è il rifugio nel momento in cui non si riesce a scrivere. Shelley queste cose, per esempio c'è una lettera in cui Shelley dice ho tradotto il ciclopio di Euripide quando non riuscivo a fare assolutamente nient'altro. e il simposio di Platone che è la gioia e la meraviglia di tutti quelli che lo leggono. L'originale intendo o quel po' di originale che si intravede nella mia traduzione non la traduzione in sé. Sì, direi che il lavoro che ho fatto io per quello che riguarda la traduzione va molto in questo spirito. La mia traduzione soprattutto in questa seconda edizione dello Shelley è una traduzione che cerca di onorare il più possibile l'originale di farlo di farlo intravedere e di sparire il più possibile come traduzione. Ecco, questa è la prima cosa che volevo dire. Poi Armando torno mi mi ricorda questa non è soltanto una traduzione questa è anche un'edizione ecco io in questo naturalmente io sono molto onorato del fatto che che sono stato invitato a fare un Meridiano è vero anzi a farne due anche e i Meridiani richiedono non soltanto delle belle traduzioni ma richiedono anche una consapevolezza di che cosa stai traducendo è vero molti Meridiani non tutti non prendono semplicemente un testo che è dato e lo traducono ma si pongono dei problemi anche di carattere proprio come ti dice testuale filologico questi sono problemi che effettivamente io mi ero posto molto meno quando avevo fatto la play ad e che invece sono stati molto centrali in questo in questo lavoro ecco adesso io naturalmente insomma io vi ringrazio perché qua c'è un sacco di gente insomma grazie mille se soltanto la metà compra il libro ecco quindi non voglio annoiarvi però ovviamente io potrei andare avanti a parlare per diversi anni di questa cosa no voglio soltanto dire che sicuramente Shelley è il poeta inglese che presenta le le croci filologiche più complesse direi che fosse l'unico paragone nella nostra tradizione italiana è quello poi mi blocchi quando parlo troppo è quello di Torquato Tassano anche di Tassano riusciamo mai ad avere l'edizione definitiva così non si riesce mai ad avere un'edizione definitiva di Shelley questo per ragioni anche molto pratiche legate al fatto che la stragrande maggioranza delle opere di Shelley sono uscite postume è vero oppure sono uscite in Inghilterra quando Shelley abitava in Italia e Shelley riceveva il libro e diceva è un disastro va tutto cambiato quindi direi il compito poi del critico testuale che sono io nella parte sinistra del libro è quello di rimediare a questi disastri per questo io chiedevo a Diego se trovava vi volevo fare solo un esempio l'esempio più flagrante del tipo di problemi che si incontrano in questo modo vai a prendere la poetry in the underground ve lo faccio vedere solo perché non voglio entrare in tecnicismi naturalmente però ecco questo qua è un manifesto divertente è un manifesto che non so ancora adesso ma che per diversi anni è stato messo nelle metropolitane londinesi è vero c'è questo programma che si chiama poetry in the underground qualche volta tengono a farlo anche in Italia però poi in Italia li strappano mentre a Londra ha avuto molto successo se voi guardate in questo manifesto da una parte c'è il manoscritto e vedete che la scrittura di Shelley non è esattamente chiara e dall'altra parte invece c'è la trascrizione e pensate che questo è un manifesto che hanno visto milioni di londinesi che hanno preso la metropolitana per una decina di anni e io sono sicuro che pochissimi di loro si sono accorti di quello di cui che credo che anche voi non vi stiate accorgendo e cioè che l'ordine delle due strofi delle strofi nel manoscritto è il contrario dell'ordine delle strofi nella vedete nella nella trascrizione poi io vi leggo vi leggo una traduzione la mia traduzione di quelle quattro strofi la musica quando soavi voci muoiono nella memoria vibra profumi quando sfioriscono le dolci viole vivo nei sensi che han destato i petali di rosa quando la rosa è morta sono accumulati per il letto dell'amata così sui tuoi pensieri quando più qui non sarai amore stesso si assospirà ecco ora questa è una delle poesie più famose di Shelley è vero una delle poesie più famose di Shelley anche il più importante critico letterario il più influente critico letterario inglese T.S. Eliot che detestava Shelley e lo detestava anche perché lui a differenza di Shelley era abituato a presenter le poesie in chiesa insomma quindi lo detestava proprio per ragioni anche politiche e religiose tuttavia riconosce che questa poesia è una poesia straordinaria e dice addirittura che è straordinaria per la musicalità per l'esattezza e anche per la conseguenzialità logica con cui questa poesia si svolge ora però poi negli anni 60 salta fuori un manoscritto che ci dimostra che in realtà questa conseguenzialità non funziona perché Shelley aveva scritto le cose al contrario è vero e allora nella più recente edizione invece inglese la poesia la leggete al contrario cioè leggete prima la seconda strofe e poi la prima è vero proprio per questo problema che bisogna onorare l'evidenza testuale è vero ecco questo è un pochettino il problema che hanno le persone che fanno il mio inutile mestiere insomma quello di decidere chi ha ragione io in questo caso per esempio nei meridiani ho pubblicato tutte e due le versioni come se fossero due poesie diverse ma non ne ho messa una in nota e una nel testo le ho messe tutte e due nel testo perché in un certo senso una di loro onora direi quella che si chiama l'evidenza testuale che è un po' diventata la metafisica dei giorni nostri e un'altra invece onora quella che è la verità della tradizione di questa poesia capite che in un certo senso è opposta io così volevo farvi vedere questo esempio perché questo è un pochettino un piccolo esempio del lavoro della pagina sinistra di questo libro ecco ogni volta tu devi fare delle scelte di questo genere voglio andare all'altro manoscritto quello di Giuliano Madalo qua c'è un altro hai messo quello giusto che qua qua non vedo io ecco no queste sono vedete adesso così anche per lasciare la parola al collega questo è un altro manoscritto questo presenta meno problemi di carattere testuale capite mentre la cosa molto interessante mi è dispiaciuto che la redazione non accettasse di pubblicare qualcuna di queste immagini perché voi vedete che in questo caso il manoscritto è anche quasi un'opera d'arte è vero Shelley nel momento in cui scriveva anche si illustrava e ci sono diversi esempi poi quindi qua magari qua magari mi fermo perché in realtà quei due occhi che voi vedete gli studiosi dicono che probabilmente sono gli occhi azzurri come il cielo italiano dice Shelley di una bambina che si chiamava Allegra che era una bambina che Byron aveva avuto illegittimamente dalla sorellastra di Mary Shelley questa era tutta gente che faceva dei pasticci è vero e che poi era cresciuta e che poi era cresciuta nella casa di Shelley ed è possibile anzi molto verissimile che Shelley era molto legato a questa bambina e quindi è del tutto verissimile che nel momento in cui scrive questa poesia che è una poesia di cui adesso ci parlerà Diego Saglia avesse in mente e anche nostalgia di questi occhi e quindi si sono infilati lì facciamo un po' ha già dato il compito professor Saglia quindi io però dunque allora gli occhi la bambina il nome cose illegittime Mary Shelley altro problema altro problema qui non so se poi alla fine riusciremo a tirarlo in palco anche perché questa sera abbiamo concordato con Monsignore che nella rete pescatoria dell'apostolo Pietro cada soltanto Shelley non anche Frankenstein e tutto il resto ma comunque insomma vabbè allora portiamo in scena Byron ecco portiamo in scena Byron anche con le opere se vuole vediamo un attimo la poesia la citazione eccetera volentieri volentieri intanto allora avete capito che parlare di Shelley da solo non ci si riesce perché è tutta una rete di figure che facevano pasticci a volte anche non pasticci insomma dipendeva un po' dalla giornata tanto di Mary Shelley facciamo vedere questo famosissimo ritratto e poi se ci sarà tempo appunto richiamiamo anche Mary però con Francesco ci dicevamo l'anno scorso il 2018 sono stati 200 anni di Frankenstein abbiamo continuato a parlare di Frankenstein di Mary Shelley per un anno intero volevamo prendere un po' di fiato questa sera comunque dopo avere visto Mary ecco passiamo a Byron molto volentieri lo dico anche perché è il poeta di questo gruppo di cui mi occupo ormai da tempo così come Francesco si occupa da tempo di Shelley viviamo con questi due uomini da decenni non so chi si è messo meglio fra me e te c'è capitato quello che c'è capitato questa è una famosa rappresentazione degli anni 20 di Byron nella sua grande stanza studio a Palazzo Mocenigo a Venezia rappresenta più o meno quel periodo del 1817 18 dove Byron risiedeva a Venezia e dove appunto Shelley gli andò a fare visita vi dico è importante ricordare questa amicizia con tutte le sue sfumature complesse perché per me aggiunge un tassello cruciale a tutto quello che vi ho detto agli inizi sul romanticismo inglese ovvero nonostante ciò che si ritiene normalmente la figura del poeta romantico può celebrare la solitudine l'atto della creazione come momento di ispirazione vissuta intensamente dall'individuo a contatto privilegiato con la natura o con la spiritualità in realtà questa è solo una parte del disegno generale i poeti romantici inglesi sebbene celebrassero questo tipo di atteggiamento erano stretti da fortissimi sodalizi pensate ai gruppi che si vennero a formare e poi a disgregare pensate al gruppo dei poeti dei laghi che per un po' durò e ci ha lasciato delle cose impressionanti il gruppo di Ginevra lo potremmo chiamare da cui nasce Manfred di Byron che fra l'altro sto traducendo che è più una croce che una delizia nasce Frankenstein nasce il vampiro di Polidori in quello stesso periodo Shelley comincia a scrivere il prometeo liberato o slegato che dir si voglia c'è tutto il gruppo dei poeti e degli scrittori Cockney cioè quelli del gruppo londinese legato alla città c'era ancora Shelley c'era Keats c'era Lee Hunt c'era William Haslitt e così via quindi l'arte del romanticismo è anche quella del sodalizio che magari non dura ma che per una breve stagione intensissima porta a risultati eccezionali a scambi veramente fecondissimi e quindi ad esempio l'amicizia di Byron e Shelley porta Shelley a raggiungere Byron a Venezia Byron si era autoesiliato dopo essere caduto in disgrazia per lo scandalo che aveva fatto seguito alla separazione dalla moglie lo va a trovare a Palazzo Mocenigo dove lo vede appunto intento a scrivere lo vede tutto sommato fisicamente messo molto male anzi scrive una lettera molto nota a un altro amico scrittore in Anghilterra e dice Byron è fondamentalmente un debosciato si sta rovinando fisicamente non riuscirà a reggere i ritmi a cui si è sottoposto grazie a tutti i divertimenti che Venezia offre vede Allegra questa piccola bambina giocare libera per queste stanze assieme a tutti gli animali che Byron teneva con sé Byron amava circondarsi di questa menagerie di animali esotici che lo seguivano dovunque si spostasse Byron e Shelley poi compiono passeggiate per Venezia giri in gondola si recano a Lido dove vanno a cavalcare insieme e discutono discutono come amano fare da sempre dal periodo in cui si incontra in Inghilterra a quello dove si rincontrano sulle sponde del lago di Ginevra e da qui nasce l'opera di cui appunto parlava prima Francesco questo Julian and Maddalo Julian e Maddalo questo poemetto dialogico che è veramente l'incarnazione di questi scambi di queste conversazioni ma anche soprattutto di questi conflitti che c'erano fra queste due figure due figure diversissime prima Francesco ci ha parlato di sceglie della possibilità e impossibilità al tempo stesso della traduzione la stessa cosa qui guardate perché c'è questo bisogno profondo del confronto dell'incontro che poi diventa scontro e alla fine poi le posizioni rimangono separate in una tensione forse feconda e produttiva ma comunque conflittuale costantemente in questo poemetto il personaggio di Julian è Shelley il personaggio del conte Maddalo è Byron l'ambiente è quello veneziano c'è la figura della bambina che è appunto la figlia del conte Maddalo cioè di Shelley e ci sono i dialoghi fra i due e poi l'incontro dei due con questa figura enigmatica di questo di questo folle un pazzo rinchiuso sull'isola manicomio di Venezia San Servolo che i due visitano lì con Francesca è tutto il pomeriggio che discutiamo la figura del pazzo del folle che cosa sta a significare poi dopo magari proviamo a dare una risposta io non lo so ma quello adesso vi voglio leggere qualche brano qua e là per darvi ancora un altro assaggio di questa poesia nella bellissima traduzione che troviamo nel volume innanzitutto l'inizio dove ci viene presentata Venezia dalla desolazione delle coste della laguna e Giulia anche parla e dice con il conte Maddalo una sera cavalcavo sulla sponda di terra che interrompe il flusso dell'Adria verso Venezia una nuda distesa di dune accumulate dal continuo mescolio della sabbia ricoperte di cardi ed erbe anfibie che dall'abbraccio con la terra il salmastro limo produce è questa una disabitata marina trovo questa descrizione assolutamente elettrizzante perché poi a un certo punto si fa contrasto invece con l'immagine più solare e più positiva dell'Italia l'immagine anche più pittoresca che Shelley evoca con una famosissima invocazione dove dice paradiso degli esuli Italia le tue montagne i mari e i vigneti che circondano le tue città turrite noi eravamo sopra di te e lo contemplavamo poi là dove eravamo smontati gli uomini del conte ci stavano aspettando con la gondola qui rientriamo in un'Italia molto più conosciuta molto più romantica e anche maggiormente stereotipata se volete ecco che dopo appunto questa passeggiata ritornano la mattina seguente alla casa del conte e qui compare compare la bambina questa creatura dell'innocenza la mattina seguente era piovosa fredda e buia prima che Madda lo salzasse andai a fargli visita e mentre l'aspettavo giocai con la sua bambina dolce natura mai fece più amabile balocco una creatura seria e astuta selvatica e pur gentile piena di grazia spontanea e senza affettazione con occhi o non parlate dei suoi occhi che sembrano gemelli specchi del cielo italiano eppure brillano con l'espressione intensa che si scorge solo sul volto umano questa bambina per Julian rappresenta tutto ciò che di positivo di ottimistico ci può essere nel creato nel reale è un'incarnazione dell'amore della bellezza della verità lui dice qua mi concludo perché inizia il dissidio dialettico invece con il conte Maddalo che rappresenta il pessimismo e anche il nichilismo no bayroniano il conte Maddalo risponde parlate d'utopia e Julian dice resta da sapere ribattei e quelli che provano forse scopriranno quanto siano forti le catene che ci legano lo spirito fragili forse come paglia è certo che molto può essere vinto molto sopportato di quello che ci umilia e schiaccia sappiamo ad avere su noi stessi il potere di fare e di soffrire cosa non possiamo saperlo prima di provare ma qualcosa di più nobile che vivere e morire ottimismo migliorismo da una parte pessimismo dall'altro e come vi dico alla fine questa figura di questo folle folle in cui tutti questi conflitti vengono a disperdersi nell'indicibile della pazzia quindi il rapporto fra Byron e Shelley di grande collaborazione scambio di idee ma al tempo stesso un rapporto che rimane in tensione che non porta a una pacificazione o a un'armonizzazione cosa aggiungere queste parole anche perché si è perso un po' nella poesia professor Saglia senza però abbiamo trovato Shelley a Venezia l'abbiamo sentito parlare di esilio se ne stava qua in Italia in esilio da esiliato vediamo un po' ma qual era la posizione politica di Shelley perché anche perché devo dire io non essendo uno specialista l'ho trovato un po' in tutte le situazioni cioè era gradito le femministe è gradito la Beat Generation è gradito i pacifisti è gradito a Bertrand Russell che cioè come pacifista funzionava però anche come moralista insomma Shelley è un po' dappertutto diventa un po' l'icona è gradito anche a Marx a Engels come no come no allora la posizione politica di questo signore va beh Shelley è una persona eternamente a sinistra è vero è il poeta pronto a scendere in campo è il poeta che scrive anche dei pamflet politici io nel mio volume ho inserito un lungo pamflet politico che si chiama Considerazioni filosofiche sulla riforma che potrebbe anche essere noioso per il lettore di poesia ma che per Shelley è molto molto importante è vero aveva tanti soldi Shelley anche quindi può darsi che adesso un pochettino lo vedremo come un radica chic io quello non credo di no 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 Shelley non era un radica chic sicuramente da un certo punto Shelley quasi scappa in Italia è vero Shelley viene costretto come Byron sia Shelley che Byron veramente vengono in un certo senso costretti a lasciare l'Inghilterra dal clima e anche dalle cose che avevano fatto Byron con questo scandalo del divorzio e Shelley con la prima moglie di Shelley si era suicidata era seguito un processo il processo aveva portato a negare a Shelley l'affidamento dei figli cose molto pesanti e non del tutto meritate e allora a un certo punto Shelley ha bisogno di un'area diversa però in Italia sta bene Shelley e per fortuna Shelley è venuto in Italia perché le cose che Shelley ha scritte in Italia sono infinitamente superiori alle cose che Shelley ha scritte in Inghilterra e su questo non c'è anche il dubbio è vero che Shelley vive in Italia sempre con un sentimento anche dice da un lato tu Italia Parisi degli Esuli dove è forte l'accento sul paradiso però è forte l'accento anche sull'essere in esilio è vero infatti subito dopo noi esperti di letteratura inglese ci rendiamo conto che Shelley descrive l'Italia anche descrive il tramonto sui Colli Eugani con allo stesso modo in cui Milton descrive il lago di fuoco all'inferno quindi è sì un paradiso però esserci dentro può anche essere un inferno e queste sono poi le cose che poi si capiscono leggendo il commento al libro una cosa volevo effettivamente dire rispetto appunto a questa attrazione e a volte anche repulsione delle posizioni politiche di Shelley Shelley sicuramente è una persona engagée è vero impegnato si trova in Italia per esempio quando succede il fatto più eclatante e sanguinario del periodo il cosiddetto massacro di Peterloo io non so se qualcuno di voi sa che cos'è il massacro di Peterloo ma sono sicuro che almeno la metà di voi lo saprà tra una settimana perché sta uscendo il film di Mike Lee intitolato proprio Peterloo fai vedere ecco qua la locandina del film è vero questa è una c'era stata una pacifica dimostrazione a favore della riforma parlamentare una riforma che poi finalmente si farà nel 1932 che se voi vedete è la data in cui poi effettivamente esce la poesia che Shelley dedica al massacro di Peterloo durante questa pacifica dimostrazione un gruppo di agenti provocatori crea dei disordini che giustificano una carica di un gruppo di miliziani e una vera e propria strage di persone anche completamente innocenti donne bambini Shelley viene a sapere questa cosa e nel giro di due o tre giorni scrive una delle sue grandi poesie che si chiama The Mask of Anarchy la maschera ma anche la mascherata è vero nel senso il corteo capite dell'anarchia che è una poesia che non abbiamo tempo di leggere purtroppo io davvero vorrei approfittare credo che tutti voi vogliate approfittare qua per sentire qualche verso però la cosa interessante di questa poesia è che inizia col verso As I lay sleeping ho il manoscritto ma è inutile cercarlo As I lay sleeping in Italy mentre giacevo addormentato in Italia sento una grande voce che viene d'oltremanica è un pochettino come se Shelley dice insomma io sono qua in panciolle è vero sono qua addormentato e effettivamente questa scossa della brutta cosa che è successa in Inghilterra poi Shelley la elabora nella migliore maniera possibile vi dirò che in coincidenza con l'arrivo poi mi blocchi quando parlo troppo in coincidenza con l'arrivo di questa notizia Shelley incontra anche per puro caldo una biblioteca di Firenze una rivista dove era uscita una recensione terribilmente negativa della sua poesia intitolata The Revolt of Islam è vero? una poesia che qua è solo antologizzata un lungo poema una recensione veramente una stroncatura come non se ne fanno più adesso è vero? mai sui giornali o si parla bene di un libro oppure non si fa la recensione allora invece si parlava male ed era abbastanza normale che l'autore sfidasse a duello il recensore dopo la recensione e questo era abbastanza normale e una recensione davvero terribile che fra l'altro immagina questo non era previsto ma interessante immagina immagina che Shelley venga muoia negato pensate che poi è quello che davvero succederà immagina immagina Shelley come il faraone che insegue gli ebrei che scappano dall'Egitto è vero? e poi immagina voi avete tutti visto il film no? di De Milè alcuni hanno anche letto la Bibbia immagina il mare che si chiude sul cocchio dell'imperatore e Shelley è l'imperatore che va a fondo ecco quindi una cosa estremamente violenta estremamente brutta e anche estremamente conturbante perché poi Shelley come molti di voi sapranno tre anni dopo morirà davvero in questo modo non per volere di vino ma perché morire è una cosa comunque la cosa importante è che direi l'insieme di queste sollecitazioni cioè davvero un sentimento di offesa pubblica e nello stesso tempo la permalosità dello scrittore che riceve la brutta recensione e non glielo perdona e non glielo perdona insieme Shelley veramente le fa confluire in quella che poi è probabilmente la sua poesia più famosa probabilmente il suo capolavoro che viene proprio scritta in quei giorni la famosa Ode to the West Wind la famosa Ode to the West Wind che è una poesia ed è davvero la poesia che vorrei leggervi perché è una poesia in cui un pochettino tutto Shelley si armonizza cioè da un lato la grande passione politica c'è il solipsismo l'egotismo del poeta romantico però c'è anche la capacità di dissolversi poi c'è l'attualità poi c'è l'osservazione della natura e non solo c'è la riorganizzazione dell'osservazione della natura secondo le più recenti scoperte scientifiche questa è una poesia che è stata ridicolizzata negli anni 40 perché sembrava che la descrizione delle nuvole che sentirete tra un minuto fosse troppo direi ingiustificatamente metaforica in realtà se la si studia bene si vede che questa descrizione senza nulla togliere alla ispirazione capite è una è una descrizione estremamente tecnica della classificazione delle nuvole così come erano state classificate da 7-8 anni Goethe per esempio c'è un bel meridiano anche con tutte le poesie di Goethe come voi sapete ha tutta una sequenza di poesie ognuna si chiama come una nuvola diversa e c'è il cirro la nuvola la coda di cavale ecco Schelling in questa poesia che sembra una poesia è talmente una poesia mossa da un'urgenza espressiva travolgente sembra una poesia non organizzata in realtà è una poesia che anche da un punto di vista scientifico è impeccabile ecco io naturalmente tradurla è impossibile ecco poi una poesia e vi dico solo questa cosa poi la leggo e questo davvero può venire fuori soltanto nel commento è una poesia che anche da un punto di vista metrico e direi dell'elaborazione dei generi letterari è infinitamente sofisticata è una poesia di cinque strofi ciascuna di queste strofi è composta da quattordici versi cioè in sostanza ciascuna di queste strofi è un sonetto e il sonetto per tradizione è la forma lirica più personale capite e tuttavia la forma metrica della poesia la forma delle rime della poesia è quella della terza rima della rima dantesca quindi in un certo senso dell'epica moderna e quindi la poesia meno personale se volete e sceglie e riesce in questa poesia quindi a congiungere direi proprio l'afflatto lirico così come la frenata lì l'afflatto lirico così come il racconto epico ed è davvero una poesia che ogni volta e quindi questa io spero che funzioni un pochettino anche in traduzione provo a leggervela voi intanto Diego vi farà vedere strofe per strofe e naturalmente cercherò di non correggerla intanto che la leggo ma la traduzione è un lavoro impossibile quindi ogni volta tu la vorresti cambiare a cominciare dal titolo o del vento d'occidente selvaggio vento d'occidente respiro dell'essere d'autunno tu dalla cui invisibile presenza le foglie morte spettri che fugono un incantatore sono sospinte gialle nere pallide rosse di febbre moltitudini colpite dalla peste o tu che come auriga guidi al loro oscuro letto i semi alati dove d'inverno giacciono profondi e freddi ognuno come un corpo nella tomba finché l'azzurra tua sorella a primavera non darà voce alla sua squilla sulla sognante terra e riempirà spingendo dolci gemme come gregge nei pascoli dell'aria di vive tinte e odori le pianure e i colli selvaggio spirito dovunque in movimento tu che distruggi e preservi ascolta oh ascolta tu sulla cui corrente nel tumulto impetuoso del cielo nuvole sciolte come le foglie morte della terra sono scrollate dai rami attorcigliati del cielo ed oceano angeli di piogge e lampi eccole sparse sulla superficie azzurra del tuo aereo flutto come la chioma fulgida rizzata sulla testa di una furiosa menade dall'indistinto limine dell'orizzonte su fino all'altezza dello zenith ciocche della tempesta che avanza tu epicedio del morente anno per il quale questa notte incombente sarà la cupola di un gran spolcro eretta volta con tutte le tue forze congregate di vapori dalla cui solida atmosfera nera pioggia e fuoco e grandine esploderanno oh ascolta le prime due strofi erano dedicate alla terra la prima strofe è dedicata alla terra la seconda è stata dedicata all'aria adesso c'è la strofe dedicata all'acqua tu che hai destato dai suoi sogni estivi l'azzurro mar mediterraneo che giaceva cullato nella spira delle sue correnti cristalline vicino a un'isola di pomice del golfo di baia e nel sonno vedeva palazzi antichi e torri tremolanti nel più intenso giorno dell'onda tutti coperti da azzurro muschio e fiori così dolci che il senso viene meno nel descriverli tu per il cui sentiero le possenti distese d'Atlantico si squarciano in voragini e mentre lontano in fondo i fiori dell'acqua e gli stillanti boschi che si vestono delle stere di foglie dell'oceano riconoscono la tua voce e all'improvviso atterriscono e tremano e si spogliano o ascolta se io fossi una foglia morte potessi tu trascinarmi se io fossi una nuvola veloce per volare con te un'onda palpitante sotto il tuo potere parte dell'impulso della tua forza solo meno libero di te o irrefrenabile se almeno fossi come ero in gioventù e potessi essere il compagno dei tuoi vagabondaggi sopra il cielo come allora quando sorpassare la tua celeste corsa quasi sembrava vero io non avrei lottato mai con te così in preghiera in questa dura ora di bisogno o levami come un'onda una foglia una nuvola cado sui rovi della vita sanguino un greve peso d'orea incatenato e piega uno che troppo a te somiglia indomito veloce e fiero fa di me la tua lira come la foresta cadano pure le mie foglie come le sue il tumulto delle tue possenti armoniche trarrà da entrambi una cadenza profonda autunnale seppure dolce di tristezza si tu spirito fiero il mio spirito si tu me o impetuoso spingimi ai pensieri morti sopra l'universo come foglie secche ravvivare una nuova nascita e con l'incantesimo di questo verso spargi come da un inestinto focolare cenere e scintille le mie parole tra gli uomini sia attraverso le mie labbra per la terra torpida la tromba di una profezia o vento se inverno viene può forse primavera essere lontana ecco questo qua è l'ode al vento occidentale vi ringrazio di avermi permesso di leggerla tutta perché non è breve insomma e naturalmente se la leggo sono contento se poi la guardo vicino all'inglese no però questo è però questo è inevitabile vi confesso che già che ci sono adesso parlando così velocemente poi poi chiudiamo direi di questo senso che fra le tante cose che sono uscite insomma sui giornali un'osservazione mi ha fatto piacere di qualcuno che diceva che il tipo di traduzione che avevo scelto questi non sono versi tradizionali anche se probabilmente voi avrete sentito che fondamentalmente l'endecassillabo è prevalente spesso e volentieri insieme al settenario o al quinario cioè sono tendono ad essere versi dispari vabbè non voglio entrare troppo nel tecnico comunque no il problema con questo libro non tanto quello dal vento d'occidente che è comunque una poesia talmente travolgente che funziona sempre quanto con poesie come Prometo Liberato oppure Pipsichidion oppure Alastor cioè poesie che vanno avanti per centinaia di versi capite questi sono 60 o qualcosa quegli altri sono magari 300, 400, 500 ecco qualcuno ha detto che ecco la forma la traduzione non annoiava troppo ecco questo è stato questa è stata questa è stata la cosa che mi ha fatto più piacere ecco perché questo è davvero difficile è davvero difficile non annoiare con non annoiare con la poesia la poesia giustamente è sempre presa sotto attacco Shelley soprattutto nel mondo borghese dal quale veniamo noi io quanto ho sofferto e soffro tuttora per occuparmi di queste cose e Shelley insomma probabilmente molti di voi sanno che Shelley ha scritto un saggio meraviglioso che si chiama La difesa della poesia capite a nessuno viene in mente di scrivere La difesa dell'economia o la difesa dell'ingegneria o la difesa della giurisprudenza non so come dire sembrano cose che non hanno bisogno di essere difese sembrano cose che si difendono da sole sono come dire lapalissianamente utili mentre la poesia sembra essere evidentemente inutile ed evidentemente un lusso e anch'io ritengo almeno per 22 ore al giorno che così sia poi ci sono due ore in cui penso che la poesia sia una cosa seria e sicuramente la difesa della poesia è il saggio credo più bello che sia stato scritto ma e qua voglio essere iperbolico insomma sulla per difendere la poesia il più convincente io volevo concludere quello che ho dire io che non volevo parlare mi ha costretto la Mondadori a farlo ho scritto 3400 pagina di rito tacere ma volevo concludere con due o tre frasi dalla difesa della poesia che mi sembrano davvero aiutarci adesso è vero in momenti così grandi la Brexit è forse una delle cose meno brutte ma Shelley si sarebbe messo le mani tra i capelli per esempio appunto l'obiezione all'immoralità della poesia questo Shelley l'obiezione all'immoralità della poesia che è un'obiezione tradizionale fin da Platone sapete Platone diceva i poeti devono togliersi dalla città l'obiezione all'immoralità della poesia è interamente fondata su una falsa concezione del modo in cui la poesia opera per il miglioramento dell'uomo l'etica ordina gli elementi creati dalla poesia propone schemi e suggerisce esempi di vita civile e domestica e non è certo per mancanza di dottrine lodevoli che gli uomini si odiano si disprezzano si criticano si ingannano e si sopraffanno l'uno l'altro ma la poesia agisce in modo diverso e più divino essa risveglia e allarga la mente facendone il ricettacolo di infinite e insospettate combinazioni di pensiero la poesia toglie il velo alla nascosta bellezza del mondo e fa sì che gli oggetti familiari appaiano come nuovi e poi salto un po' il grande segreto della morale è l'amore ossia un sentimento capace di farci uscire dalla nostra stessa natura e identificarci con il bello che esiste in pensieri azioni e persone altri da noi stessi un uomo per essere veramente buono deve immaginare intensamente e comprensivamente deve immedesimarsi in un altro e in molti altri i dolori e i piaceri dei suoi simili devono diventare i suoi il grande strumento morale il grande strumento della morale è l'immaginazione e la poesia giunge all'effetto agendo sulla causa e ancora un attimo e poi ho finito ci manca la facoltà parla della nostra situazione parla Shelley della sua ma io credo che parli anche della nostra è vero queste sono parole io credo bellissime possediamo più saggezza morale politica e storica di quanta ne sappiamo mettere in pratica abbiamo maggiori conoscenze scientifiche ed economiche di quante si possano applicare alla giusta distribuzione dei prodotti non mancano certo le conoscenze per valutare cosa sia più saggio e migliore in campo morale politico ed economico o almeno più saggio e migliore di quello che gli uomini attualmente praticano e sopportano ma ci manca la facoltà creativa e questo è importante ci manca la facoltà creativa per immaginare quello che già sappiamo la facoltà creativa per immaginare quello che già sappiamo ci manca l'impulso generoso per mettere in pratica le nostre attese no quello che immaginiamo ci manca la poesia della vita i nostri calcoli hanno superato le nostre attese abbiamo mangiato più di quello che possiamo digerire lo sviluppo delle scienze che hanno allargato i confini del dominio dell'uomo sul mondo esterno in assenza della facoltà poetica ha limitato proporzionalmente i confini del mondo interiore e l'uomo che ha servito gli elementi rimane egli stesso uno schiavo la pratica della poesia non è mai tanto auspicabile come nei periodi in cui per un eccesso del principio egoistico e calcolatore i materiali della vita esteriore si sono accumulati al punto di eccedere la capacità di assimilarli alle leggi interne della natura umana allora il corpo è diventato troppo ingombrante per lo spirito che lo anima ecco la poesia si occupa di questo spirito insomma e non è poco non è poco non è poco professor Rognoni non è poco professor Saglia devo dire che ci avete condotto in questo mondo romantico inglese che è durato 50 anni come i meridiani appunto abbiamo fatto due anniversari questa sera abbiamo diciamo così sistemato due anniversari tenendo presente che insomma bisogna far entrare tutti i romantici inglesi nei meridiani ma sarà un'impresa solo la nostra Colorni potrà farcela ma ci confidiamole io molto semplicemente vi dico che come ogni scuola della cattedrale come ogni nostro incontro c'è una ripresa e tra pochi giorni questo incontro anche le sue letture professore quindi lo potranno vedere gli allievi eccetera così anche chi sta facendo la tesi con lei potrà essere vista sul sito del Duomo e poi anche su chi ovviamente prenderà e altri siti avranno questa cosa però il sito del Duomo lo avrà sempre e ricordo anche che la prossima scuola della cattedrale sarà l'8 aprile sempre le 18.30 avremo una riflessione un po' particolare perché in italiano sta per uscire un'opera monumentale sarà in sette volumi ed è il dizionario teologico degli scritti di Qumran praticamente parola per parola vengono analizzati quegli scritti che hanno un po' sconvolto la nostra conoscenza del mondo biblico le interpretazioni tutto quello che e qui avremo Monsignor Borgonovo che ci introdurrà ma ci farà qualcosa di più da introduttore poi avremo il professor Martone che è professore ordinario di ebraico all'Università di Torino ma avremo anche Marco Scarpat che è direttore editoriale di Paideia che ha escogitato che ha pensato che appunto sta sistemando quest'opera quindi andremo un po' nelle grotte di Qumran cercheremo di capire cosa è successo in quel mondo tra gli esseni e chissà chi altri l'8 aprile grazie per essere stati con noi